anche quello che può essere un altro argomento che è quello delle terme le terme ci vorrei arrivare un attimo dopo una delle prime battaglie è stata quella delle bollette dell'Eas c'è stato a un certo punto il boom delle bollette che ne sono arrivate due, tre tutte insieme, sovraconsumo sovraccarico alle famiglie di Sciacca è successo un po' il finimondo voi avete sollecitato venirei io alle bollette dell'acqua anche quello dell'Ici le verifiche Ici per anni ricordate c'è stata anche questa questa idea poco gradita all'utenza in questo caso ai cittadini e contribuenti di vederci recapitare nel caso dell'acqua due bollette vi annuncio che praticamente al giorno arriverà la terza nel senso che è il 2007 già in distribuzione lì dell'acqua c'è una situazione che secondo me è paradossale lei anche da assessore comunale condusse una battaglia contro l'acquisizione l'incasso da parte dell'EAS della voce della bollette che riguarda gli oneri per per la depurazione lei disse come fate voi di incassare gli oneri per la depurazione che dovrebbero aspettare al comune ecco io ho fatto una cosa un po' diversa intanto avendo constatato che il comune non riscuoteva da parte dell'EAS quello che erano i cani di depurazione di fognatura tra l'altro in una condizione che è difficile far capire al cittadino che non aveva né la fognatura non aveva la depurazione che doveva pagarla perché la legge Galli impone il pagamento anche in assenza del depuratore proprio perché le somme sono vincolate lì il problema era che purtroppo come spesso accade nella pubblica amministrazione chi dovrebbe essere preposto a una sorta di controllo quindi di seguire le pratiche non le seguiva perché secondo me è inconcepibile che per 12 anni l'EAS non pagava i canoni che regolarmente riscuoteva dai cittadini di Sciacca non li riversava e nessuno andava a lamentarsi io nella mia esperienza da assessore comunale ho intercettato di mia iniziativa questa anomalia chiamiamola anomalia e ho fatto la denunzia al tribunale e quindi ho aperto proprio una causa nel confronto dell'EAS successivamente diciamo il problema è stato posto è stato passato alla nuova amministrazione che mi risulta invece abbia preso una strada molto molto diversa che parzialmente era una strada che noi avevamo intrapreso che era quella della transazione ma includendo secondo me in maniera non corretta quello che potrebbero essere i canoni di deporzione di fognatura che sono una partita di giro cioè tu li riscuoti e me li dai cosa abbiamo da transiggere su questo però è stata fatta questa scelta non ho niente da accipire anche perché la conoscenza specifica degli atti successiva non è di mia conoscenza quindi non voglio andare al di là però le dici un conto erano i fondi di cui il comune era creditore nei confronti dell'EAS per interventi fatti in sostituzione dell'EAS per esempio quando si rompeva una parte della condotta idrica un conto erano i canoni di depurazione che spettavano il comune su quelli non si dovevano fare transazioni assolutamente non si dovevano fare e comunque è andata così è andata così dopodiché questa sorta di richiesta parte dell'EAS legittima in una condizione di normalità cioè io ergo dei servizi e per questo chiedo ai cittadini a chi ha un'utenza di pagare qua invece ci troviamo in una cosa talmente anomala proprio per le motivazioni che diceva Pocanzi dove il servizio viene spettato poco e male e nel momento in cui non si riesce per motivi voglio dire oggettivamente collegati alla situazione disastrosa dell'EAS il comune è dovuto intervenire è dovuto intervenire sostituendo quello che doveva fare l'EAS è dovuto intervenire mettendo dei soldini pubblici quindi nostri e che non ha riscosso ora questa somma che non è di poche centinaia centinaia di euro diventa milioni di euro giustamente sarebbe corretto riscuotere e riportare nelle casse ma qualche transazione c'è stata la prima l'aveva conclusa lei io la prima transazione l'ho chiusa io con una battaglia che non è stata indifferente arrivando anche alla così fatidica cifra di 9 miliardi e 76 milioni di lire di lire questi 9 miliardi e 76 milioni non hanno avuto poi diciamo così una buona sorte perché per come è congegnata l'EAS c'era un organo di controllo che era presso l'assessorato ai lavori pubblici che aveva il compito proprio di dire sì o no tu puoi pagare siccome l'EAS non aveva una lira allora ha detto no io non ti do l'autorizzazione a poter pagare il comune di sciacca in quanto soldi non ne hai questa è stata la risposta che ha lasciato essere fatta anche perché i dirigenti dell'EAS erano già pronti pronti a fare i mandati per il pagamento questa è stata diciamo la risposta poi le vicissitudini dell'EAS quindi commissariamento oggi c'è il commissario liquidatore straordinario Marcello Massinelli il quale alle volte bisognerebbe fare così una sorta di discursus all'indietro o un ipsidixit per quanto riguarda quello che si dice e quello che si fa dove io mi ricordo benissimo che per due volte è venuto a sciacca e per due volte ha detto entro 20 giorni do i soldi al comune di sciacca che giustamente li vanno io credo che siano passati quasi 4 anni non dicendo da quando partono i 20 giorni ecco non sapendo è bravo la cosa che volevo